come vedete si sale senza nessun problema ripeto si sale senza nessun problema guardate che panorama bellissimo ecco dietro di me Mastro Andreia grande Mastro un attimo Andreia un attimo mi faccio male ti vedi cado un attimo un attimo buongiorno presidente super record senza nessun problema senza nessun problema salita a due volte senza nessun problema perché chi ha problemi nelle salite, come tu ben sai a chi è il posto a sbagliarmi, scusa Presidente Carbone ho messo l'audio di atteggio sul tuo video adesso riparo e mando l'audio originale Peppe, ti sei mangiato anche il fico fico fico, giusto fico bellissimo questo posto come vedete si sale senza nessun problema ripeto, si sale senza nessun problema numero un perca 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 Non mi romperca, 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 ti 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 con l'Ovale, con il super record, senza nessun problema, senza nessun problema.